Voi due siete le new entry nel cast della seconda stagione di Vita da Carlo. Com'è stato dividere il set con un mostro sacro come Carlo Verdone? Incredibile, entusiasmante, abbiamo veramente riso tantissimo, abbiamo imparato tante cose ed è stata un'opportunità enorme, un regalo per me personalmente. Anche per me, sono d'accordo. Poi per me era la prima volta, già partire così è un punto di partenza che è anche un traguardo. Veramente incredibile. Ecco, invece Carlo Verdone rappresenta in antitesi a voi che siete la nuova generazione di attori un confronto con il passato, come è stato confrontarsi con un maestro come lui, che cosa vi ha insegnato e se vi ha dato dei consigli soprattutto. Ma devo dire che è stato bello perché a me personalmente non ha fatto pesare la differenza generazionale, no? Non è stato, non ha mai messo i piedi in testa a nessuno, è molto umile. Anzi, credo che anche lui si sia messo a disposizione nostra, no? Di imparare anche da noi delle cose nuove, no? E ci ha accolto, a me ha accolto come se fossi uno che fa questo mestiere da sempre, no? E mi ha aiutato molto e mi ha insegnato tanto da come si lavora, come si tiene il clima di un set sempre positivo, di come si gestiscono tante persone insieme che fanno un lavoro intento sempre al pubblico, no? A divertire le persone, sono lì tutti per lo stesso obiettivo e lui era un po' il grande direttore di tutto ciò e l'ha fatto in maniera impeccabile. Questo per me è un insegnamento enorme, che io sono capo di me stesso in quello che faccio, quindi è stato molto bello imparare da lui. Carlo è contemporaneo, moderno nei pensieri e nelle parole e quindi non si è mai sentito questo stacco generazionale da una generosità e un garbo senza tempo e quindi è veramente molto dolce con i suoi attori, mette molto a proprio agio. Un'ultima domanda, che cosa dobbiamo aspettarci dai vostri personaggi? Forse tante risate, tante risate. Sì, beh, però ho anche tante riflessioni, secondo me. Sì, è vero. Siamo, cioè abbiamo, forse rappresentiamo parecchio la nostra generazione, tu in un modo e io in un altro. Sì, è vero, sono d'accordo. In due modi completamente diversi, però, insomma, rappresentiamo quella che è la nostra generazione, sia nella positività, nelle risate, ma anche nella parte un po' più profonda e, insomma... Anche in alcune...